carissimi amici del canale telegram e youtube dentro la notizia quest'oggi parleremo di una buona notizia e contemporaneamente di un fatto su cui riporre la massima attenzione e che spesso presi dal ritmo frenetico della vita trascuriamo nel corso del video vi dirò a riguardo una cosa molto importante veniamo alla notizia il giudice emi di oghiu della corte superiore dello stato della california ha stabilito che i querelanti in una causa contro i produttori di alimenti per l'infanzia hanno fornito prove sufficienti e valide per sostenere che i prodotti alimentari per l'infanzia possono causare disturbi dello spettro autistico e disturbo da deficit di attenzione iperattività adhd nei bambini attenzione perché non è una cosa banale interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di youtube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale telegram dentro la notizia iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 130.000 iscritti divenendo così il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su youtube e su telegram mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo unitisi vince un abbraccio dal vostro robin